Il primo weekend di novembre è tradizionalmente dedicato anche alla ricorrenza e al ricordo dei defunti. Pescara con i suoi due cimiteri, Sindaco Masci questa mattina vede impegnati anche tanti agenti della Polizia Municipale per il traffico. Tanta gente si è recata e si sta recando nei due cimiteri cittadini. Sì, noi abbiamo predisposto un servizio di vigilanza urbana rafforzato anche grazie ai vigili stagionali che abbiamo ancora fino al 31 dicembre. Quindi il territorio è totalmente presidiato, soprattutto quello vicino ai due cimiteri, perché oggi è una giornata importante per tutti quanti, di riflessione sulla vita e sulla morte, ma soprattutto di incontro con i propri cari. E quindi sicuramente tanta gente si sta recando, come sempre, nei nostri cimiteri per fare una preghiera, per ricordare i propri cari. Il Comune è presente perché assiste a tutte le incombenze, sia per quanto riguarda i servizi cimiteriali, ma anche per quanto riguarda l'attività esterna, quindi il controllo della viabilità. Lo avevate portato anche a termine dei lavori negli ultimi mesi per quanto riguarda proprio i due cimiteri? Sì, abbiamo cercato di renderli fruibili perché i cimiteri sono un punto importante di incontro della città e quindi debbono essere perfetti perché la dignità e la civiltà di una società e una città si misurano anche nel rispetto dei propri cari e quindi il Comune non può farsi trovare impreparato rispetto a determinate situazioni. Sindaco De Martinis, oggi il giorno di tutti i santi, ma domani ci sarà la ricorrenza per ricordare i defunti. Tanta gente al cimitero di Montesilvano dove avete predisposto anche uno speciale servizio per i disabili. Sì, ci siamo organizzati al fine di rendere il cimitero intanto il più decoroso possibile in occasione di queste feste ma anche di rendere agevole la permanenza all'interno del cimitero a chi va a visitare i propri cari defunti anche alle persone diversamente abili per le quali è stato predisposto un servizio speciale grazie a un gruppo di volontari che sono poi in qualche modo quelli della Croce Rossa, della Misericordia e anche dei carabiglieri in congelo ai quali faccio un grandissimo ringraziamento per il servizio reso alla nostra collettività. Tanti cittadini oggi qui nel cimitero di Montesilvano, qualche piccolo disagio al traffico inevitabile con una parte di strada chiusa? È evidente che quando si chiude un'arteria importante come questa del cimitero insomma si crea un po' di confusione in merito alla viabilità però devo dire che nonostante tutto e nonostante qualche disagio poi è abbastanza fluido il traffico e tutto scorre in qualche modo anche se vogliamo regolarmente. Questo non lo dico io ma me lo stanno dicendo i tanti cittadini che ho incontrato qui al cimitero i quali ci hanno fatto i complimenti anche per appunto per come è stato allestito il tutto in questi giorni speciali e questo non può che rendermi orgoglioso del lavoro fatto e anche felice perché ripeto queste sono decorrenze importanti e come tale è giusto dargli una dignità anche da un punto di vista della funzionalità del servizio.